Era la mattina del 20 settembre 2018 quando Filippo Bagni e Piero Bruni morirono soffocati dal gas Argon, una fuoriuscita dalle bombole senza che ci fosse un incendio che non diede così scampo ai due impiegati dell'archivio di Stato. A due anni di distanza dalla tragedia Arezzo ha così ricordato le due vittime. Nella cappella della Madonna del Conforto in Duomo è stata celebrata una messa accompagnata dal coro di San Pietro e Paolo, la parrocchia di Piero. È poi seguita una piccola cerimonia nei giardini di Casavasari con la consegna di due rilevatori di gas nocivi e tre zaini per il soccorso che Monica e Anna, le due vedove, hanno voluto fossero acquistati con le somme raccolte nelle varie iniziative organizzate dai colleghi del Polo Museale della Toscana, dalla Misericordia e dall'archivio di Stato. A due anni di distanza dalla tragedia che aveva scosso profondamente Arezzo ancora si attende di trovare un perché, una risposta appesa all'inchiesta, aperta subito dopo il dramma, ma soprattutto al processo che dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi. Il PM Laura Taddei infatti si accinge a chiedere rinvio a giudizio per coloro che avrebbero responsabilità nel duplice omicidio colposo, 19 in tutto gli indagati tra funzionari, tecnici e professionisti. L'impianto della formazione alla sicurezza del personale e dell'archivio di Stato, secondo la Procura, non sarebbero stati infatti adeguati.